Sono Marta Rovatti, sono una fotografa di arte e lavoro anche nel mondo commerciale e ho provato tante tipologie di espressione e diciamo che in questo momento sono arrivata in un momento di equilibrio, speriamo, di equilibrio tra una parte che è quella diciamo più emotiva del mio lavoro, che è legata al mondo dell'arte, è legata alla mia espressione da questo punto di vista e una parte che invece è legata più al lavoro di per sé, che però fortunatamente mi dà grandissime soddisfazioni e comunque fa parte di un ambito che è sempre stata la mia passione, che è quello dello sport. Sono fotografa sportiva di eventi grandi anche nel mondo del motorsport, della vela prevalentemente, ma in tante altre realtà. Da quando ero ambina, che vedevo soprattutto mio padre che lavora comunque un po' in questo ambito, bizzarrirsi con la macchina fotografica, ci sono delle foto di me proprio a due anni con macchine fotografiche in mano, al contrario, rigirate, però ci provavo, insomma, quella era la mia strada. L'ho incontrata in modo un po' più, diciamo, cosciente. Negli anni del liceo ho fatto dei corsi di fotografia in camera oscura, insomma, è stato un compagno di viaggio la fotografia e dopo un triennio in design di prodotto al Politecnico ho deciso che dovevo provarci, diciamo, a dedicarmi a questo e quindi ho fatto un master di Fine Art Photography a Londra e finalmente sono stata contenta. Felice di esprimere tutto quello che avevo immagazzinato fino a quel momento e quindi devo dire che da quelli sono stati proprio gli anni di scoperta anche pratica della fotografia in cui sono riuscita a sperimentare tantissimo perché in questa università fortunatamente mi davano a disposizione un sacco di strumenti e da lì è partito, è diventato anche un lavoro. Devo dire che ovviamente c'è sempre questo bilanciamento tra lavoro e passione che non sempre è semplice però sicuramente essere rimasta nel mondo dell'arte ha fatto sì che io potessi continuare a vivere la fotografia e anche come passione. Quindi questo è una grandissima, diciamo, fortuna. Nel mio percorso, soprattutto ovviamente legato al periodo in cui ero all'università, ho avuto delle grosse influenze. diciamo che la fascinazione per un racconto un po' più intimo è stato sempre nelle mie corde. Sicuramente una fotografa che ha avuto un impatto su quello che è stata la mia estetica, è stata Uta Bart, con questi sfocati, il mettere, diciamo, il soggetto in mezzo tra sé e ciò che fotografa, ma senza farlo vedere. Insomma, c'è una ricerca poi dell'intimo legato anche all'altro. Questo sicuramente è stato parte di quello che mi ha spinta poi a creare le serie di immagini che ho creato. Un altro riferimento sicuramente Luigi Ghirri, che nella sua estetica per me è speciale. Nella mia attività attuale appunto sposo dei lavori personali a dei lavori commerciali. In realtà queste due aree sono in costante comunicazione, nel senso che comunque la mia evoluzione come fotografa a livello personale ha anche un impatto nel come approccio i lavori commerciali. Nel mondo della fotografia, secondo me, si sta instaurando una dualità tra il mondo della fotografia come forma d'arte e fotografia, diciamo, intesa come rappresentazione della realtà. Quello che mi sembra di poter dire è che sicuramente, fortunatamente, ormai la fotografia è considerata una forma d'arte. Ci sono un sacco di fiere, di mostre, di esposizioni, di certificazioni in qualche modo del fatto che questo passaggio sia avvenuto negli ultimi decenni. Sta evolvendo ovviamente anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale che non può essere in qualche modo negato nel mondo dell'arte. Io ho notato che anche in tante mostre, appunto, fiere a cui sono stata, c'è un po' questa scissione tra mondo, c'è elaborazione digitale estrema che arriva fino all'intelligenza artificiale, della creazione di immagini da zero proprio, a poi invece dall'altro lato un ritorno fortissimo che si è già visto nell'ultimo periodo dell'analogico e anche dell'elaborazione analogica delle immagini, quindi giocare con il negativo, con la sovrapposizione. Io ho un approccio alla ricerca, al mondo dell'arte molto legato all'intimità, al personale. Tante delle mie ricerche nascono proprio da delle emozioni intime, quindi è un'arte in qualche modo rivolta verso l'interno, ma che non può prescindere da parlare all'esterno. Quindi sicuramente quello che, diciamo, io trovo fondamentale è che le immagini che poi produco facciano scaturire una emozione in chi guarda, ecco, che spesso è la stessa che era legata a me nel momento in cui ho prodotto le immagini. Ogni tanto no. Anche questo è una parte interessante del processo, capire che cosa si sviluppa nell'osservatore. quindi sicuramente è importante chi guarda, anche nell'arte, è importante, secondo me, che provi qualcosa nel momento in cui si interfaccia con un'opera d'arte. Nel mondo commerciale è molto diverso, nel senso che il prodotto è molto incentrato su chi guarda. Il fruttore finale è importantissimo. Spesso, diciamo, si trova anche un po' di difficoltà, soprattutto dal mio punto di vista, a trovare un bilanciamento tra quello che poi è il desiderio di espressione anche nel mondo commerciale e invece la necessità ovviamente di parlare con l'utente finale e che sia quello giusto, ecco. Parlare la stessa lingua, perché poi bisogna anche spesso un po' plasmare il proprio lavoro su quello che è l'uso finale che ne avrà. Sono stata, devo ammettere, molto fortunata nel mio percorso perché spesso ho trovato anche dei clienti che mi hanno lasciato un po' carta bianca, anzi mi hanno spinta a sperimentare, ad essere creativa e hanno valorizzato questo aspetto della fotografia che non è da tutti, ecco. Quindi su questo sono molto contenta. Io credo che tutta la fotografia sia immersa nella cultura odierna, nel senso che non può prescindere, ma mi spingerei a dire che qualsiasi forma di arte e di comunicazione non può prescindere da quello che è la cultura in cui è immersa. Quindi sicuramente c'è un impatto forte sia da un punto di vista estetico, ma anche di contenuto rispetto a quella che è la cultura in cui viviamo. Nella mia forma d'arte, nello specifico, la memoria gioca un ruolo fondamentale, la memoria personale, la memoria, insomma, in qualche modo collettiva. Ci sono delle serie che proprio si basano sul come noi costruiamo una memoria, una serie che si basa anche su come il passaggio delle persone ha un impatto sull'estetica del luogo. Quindi sicuramente è una parte fondamentale della ricerca. A livello, diciamo, invece più generale, in assoluto penso che oggi ci sia una grossissima attenzione su quello che è la comunità nel modo di creare le proprie immagini. perché forse abbiamo un po' perso questa cosa, quindi ci stiamo accorgendo che dobbiamo un po' tornare lì, no? Quindi mi vengono in mente anche alcune mostre che sono andata a vedere recentemente che hanno proprio un'attenzione verso temi culturali attuali molto forti che vengono proprio elevati e trasposti in forma d'arte a tutti gli effetti con anche la loro identità personale e di gruppo. Quindi questa sicuramente è una parte che è imprescindibile dalla fotografia.